Ecor Natura Si si è impegnata, impegnata da sempre, ma in questo momento in maniera particolare per la riduzione dell'uso della plastica e dell'uso egetta. Che operazioni state facendo? Ne abbiamo fatte due, secondo me, significative per noi. Una abbiamo introdotto, fuori legge perché non era molto legale, dei sacchetti riutilizzabili per l'ortofrutta. In realtà noi non abbiamo mai usato la plastica nell'ortofrutta, però usavamo comunque il Mater B, anche prodotti compostabili che comunque hanno un impatto ambientale. Quindi per togliere anche questo abbiamo inserito questi sacchetti che possono essere usati migliaia, milioni di volte. E anche per il prodotto sfuso, sacchetti in cotone biologico, quindi per il pane, oppure per i prodotti sfusi, o per il tè, possono essere usati questi sacchetti, uno li può lavare. Questo è il primo tema. Il secondo tema, quello ancora più importante, magari che ha avuto un impatto, è stato quello di, vogliamo, arrivare a togliere almeno tutte le bottiglie in plastica dell'acqua. Quindi abbiamo inserito, dopo due anni di lavoro, ci abbiamo lavorato due anni, abbiamo inserito un erogatore, quindi le persone possono venire in negozio, ancora non in tutti i negozi, però pian piano, progressivamente, ne avremo 100 entro fine anno. Quindi le persone possono venire in negozio con la loro bottiglia, oppure trovano una bottiglia di vetro, la riempiono e se la portano a casa, se la lavano e la riportano e la riempiono. Quindi in realtà, questo erogatore d'acqua, l'ora che pesca l'acqua, che prende l'acqua dall'acqua del sindaco, diciamo dall'acquedotto, però abbiamo studiato due ulteriori miglioramenti a nostro avviso. Uno è un filtro a carboni attivi per togliere tutte le possibili impurità, tutti i possibili problemi, sia microbiologici che chimici, che può avere l'acqua. E poi abbiamo introdotto un dinamizzatore, cioè un vitalizzatore dell'acqua, perché volevamo con questo anche portare un po' a coscienza il tema acqua. L'acqua non è tutta uguale, l'acqua è acqua 2O, certo, però l'acqua di ruscello è diversa dall'acqua di stagno, o l'acqua, come dire, e quindi l'acqua può essere viva o morta. Noi cerchiamo di dare alle persone l'acqua viva, tra virgolette, per cui, prima, nella prima fase, cioè nella parte di purificazione, diciamo così, non usiamo gli ultravioletti, perché l'ultravioletto uccide, come dire, è chiaro che purifica, ma purifica uccidendo, uccidendo, quindi rendendo più o meno praticamente sterile l'acqua, è quello che noi non vogliamo. E mentre nel, e neanche l'osmosi inversa, perché l'osmosi inversa di fatto, insomma, come dire, impoverisce tremendamente l'acqua. L'acqua è buona, anche perché ha in sé, come dire, tutte quelle qualità, anche quei sali minerali, insomma, quelle sostanze, magari presenti in, come dire, presenti in dosi micro, così, minime, che però, insomma, danno una certa qualità dell'acqua. E quindi, no osmosi inversa, no filtro, no UV, no ultravioletti, ma carboni attivi, quindi per pulire l'acqua, per purificare l'acqua, senza ucciderla in qualche modo. Facciamo test prima e dopo, perché l'acqua non è tutta uguale in Italia, abbiamo, come dire, per esempio qui nel Veneto, abbiamo il problema del FAS, quindi abbiamo, facciamo, ci accertiamo che il tema, che il problema non ci sia, che quindi il filtro carboni attivi pulisca dal FAS, quindi questo è il primo tema, quindi una pulizia, come diciamo così, una purificazione dell'acqua che non uccida l'acqua, e il terzo è una dinamizzazione, una vitalizzazione dell'acqua, in modo che le persone possano anche, come dire, avere un'acqua vitalizzata, un'acqua che, come dire, che porti anche vita, che non solo porti sostanza. Questo è un po' il tema dell'acqua. In realtà, tutto questo parte anche dalla voglia o dal desiderio o dall'interesse per porre l'attenzione sul tema acqua, perché noi, come dire, da 33 anni, come Jacopo sa e tutti, tanti sanno, facciamo questo lavoro di cercare di dare alle persone prodotti più sani possibili, quindi più logici, più dinamici, eccetera, e naturalmente le persone devono mangiare bene, questo non c'è dubbio, però noi ci nutriamo molto, ma molto, molto di acqua, e il tema vero del futuro è l'acqua. Io sono stato molto colpito da un mio caro amico che vive in Egitto, ed in Egitto, insomma, è una cultura che in qualche modo ha sempre vissuto sulla presenza del nino, sulla presenza di acqua, no? E effettivamente ho visto quanta attenzione loro hanno, è questa comunità che si chiama Sekem, che hanno, sono, 40 anni fa, hanno iniziato a bonificare, hanno iniziato a rendere fertile il deserto, con il compostaggio, con le siepi, tirando su l'acqua in sistemi molto, molto moderni, e appunto mi ha posto l'attenzione sul fatto che il fabbisogno di acqua pro capite, il minimo considerato dalle Nazioni Unite, è 3.000 litri giorno, persona. Per produrre un chilo di grano servono 4.000 litri di acqua, per produrre un chilo di riso servono 6.000 litri di acqua, per produrre un chilo di carne servono 15.000 litri d'acqua, quindi in realtà c'è una soglia minima di sopravvivenza acqua, considerata da EU 3.000 litri pro capite giorno. Quindi l'acqua è il tema, è il tema e sarà, e tutti lo sanno, poi uno fa finta di niente, ma si sa che è il tema del futuro. Sono stato in Marocco molto tempo fa, i marocchini hanno fatto una super diga per bloccare l'acqua che veniva giù dall'Atlante, che non vada agli algerini. Quindi domani ci sarà probabilmente, credo, una battaglia sia sul suolo, e come sapete quante nazioni così lungimiranti stanno comprando terreni in Africa o nei paesi dell'Est, e il tema suolo e il tema acqua. Quindi in realtà noi vogliamo anche porre il tema acqua, l'acqua come risorsa, l'acqua come, come dire, bene prezioso, l'acqua come qualità dell'acqua. Quindi quello di, come dire, di mettere, di porre attenzione, di mettere un corno nei negozi dove si parlasse di acqua, era una parte, come dire, far risparmiare alle persone, perché quest'acqua costa meno rispetto a quella, come dire, che viene comperata generalmente in pet, quindi risparmiare alle persone, non usare plastica, quindi usare e cominciare a entrare in questo concetto del riutilizzo, quindi di riutilizzare la bottiglia, e anche perché l'acqua in vetro è più buona di l'acqua in plastica, tutti si accorgono che bevendo l'acqua in plastica, insomma, in qualche modo il gusto è un po' alterato, ci sono anche i sommelier dell'acqua scoperto in questo percorso, quindi molto più interessanti dei sommelier del vino da un punto di vista salutistico. Quindi porre un po' attenzione sul tema acqua, perché credo che il tema acqua sia un tema che noi dobbiamo, noi forse come italiani, come persone che vivono al nord Italia, dove l'acqua sembra, insomma, sia un bene, una risorsa non limitata, non abbiamo questo tema, ma lì dove effettivamente, insomma, l'acqua è una risorsa scarsa e la scarsa di acqua sarà un tema del futuro, come dire, questa attenzione è molto presente, quindi dobbiamo anche porre questa attenzione, dare questo valore al tema acqua, questo è il lavoro che abbiamo fatto, quindi acqua da una parte e poi sacchetti riutilizzabili, perché il tema è secondo me vero, cioè, è, come dire, ormai vengono fuori questi prodotti compostabili, perfetto, come dire, benissimo, però il tema sarebbe riutilizzare, quindi vuol dire avere una bottiglia d'olio, ho visto in Austria, non in Austria, scusate, in Francia, a Parigi, cioè sono i negozi in cui vai con la bottiglia dell'olio, vai con il sacchettino per la verdura, vai con il vasetto per il miele, vai con la ciotolina che ti mettono anche la gastronomia, effettivamente credo che questo sia veramente un fatto un po' complicato, se vogliamo, ma sicuramente questo sia un tema, come dire, a cui porre attenzione in futuro. L'altro tema, visto che sto parlando, scusatemi, è il tema del, abbiamo provato qualche anno fa con prodotti sfusi, non ha funzionato, cioè le persone, come dire, il consumatore, come dire, non è pronto, forse abbiamo spinto poco anche noi, però adesso vogliamo veramente spingere molto, cioè vorremmo certi prodotti, averli solo sfusi, vuoi i ceci? Solo sfusi, se no non te li porti a casa, perché bisogna entrare in questo concetto che è un po' più complicato effettivamente, ma credo che sia effettivamente interessante per il futuro, quindi avere una gamma di prodotti base, abbiamo già i detersivi, però adesso volevamo avere anche prodotti alimentari, appunto, magari il riso, i legumi, la frutta secca, eccetera, l'abbiamo già in moltissimi negozi, però è poco utilizzato, dobbiamo forse enfatizzarlo, però si capisce che queste cose qua, noi per esempio abbiamo avuto, lo dico, siamo un po' così, tra amici, come dire, in azienda, da noi, è stato un dramma, questo stile dell'acqua, un dramma, perché è cavolo, se non comprono l'acqua da me, la comprono da altri, quindi perché io, in realtà, secondo me, prima le aziende fanno delle scelte coraggiose, e questo è dovuto alle aziende, quindi se la roba è giusta, si fa, punto, però poi ci deve essere il consumatore, ci deve essere le persone che in qualche modo accolgono, condividono, supportano questa scelta, altrimenti diventa veramente difficile, quindi diciamo che il tema, non dico si risolve, ma si affronta insieme, quindi noi, come aziende, facciamo la nostra parte, però poi ci deve essere anche chi, come dire, condivide e quindi fa la scelta, perché poi la scelta la fa ognuno individualmente, quindi se noi facciamo, come dire, mettiamo l'acqua e nessuno la vuole, tutti vogliono l'acqua in plastica, è chiaro che è una battaglia persa in partenza, ma sicuramente non è così. Beh, complimenti per questa scelta di aver utilizzato dei sistemi a carbone attivo e non osmosi inversa, che invece ha moltissimo successo, la utilizzano anche dei ristoratori di grande qualità, che non si rendono conto che però quest'acqua essendo stata completamente depauperata, privata di tutti i sali minerali, le sostanze utili che ci sono nell'acqua, può essere addirittura nociva, oltre a non essere, diciamo, salutare. Ma volevo capire un attimo il meccanismo della dinamizzazione, puoi dire due parole su come funziona la dinamizzazione? Sì, adesso ci sono moltissimi sistemi, moltissimi metodi, noi in qualche modo siamo figli della dinamizzazione, nel senso che la biodinamica, come dire, la base, una delle basi della biodinamica è la dinamizzazione dei preparati biodinamici, quindi come forse Jacopo lo sa, ma tanti consumatori, tante persone sanno, noi prendiamo delle sostanze in quantità minima, per esempio la silice, passata nel corno durante l'estate, eccetera, ma non importa, usiamo il letame e vengono dinamizzati, dinamizzati per un'ora. In realtà, come dire, dinamizzare vuol dire rendere, come dire, vuol dire rendere l'acqua recettiva, diciamo così, rendere l'acqua veramente un veicolo, rendere l'acqua veramente, il veicolo della vita, ma la vita non è una roba astratta, la vita è la vita, la vita sono forze di vita presenti in natura, presenti nel cosmo, presenti attorno al pianeta Terra e l'acqua, in qualche modo, come dire, può essere recettore e quindi, però, affinché sia recettore deve essere messa in moto. Il tema è metterla in moto ritmicamente, il ritmo, il ritmo è la chiave della vita, la vita vive nel ritmo, quindi dare questo ritmo all'acqua. In questo caso, tra varie possibilità, che ce ne sono tante, ce ne saranno ancora, perché è tutto un mondo, anche tutto da scoprire, abbiamo scelto questo, si chiama, è un metodo, insomma, T-Sonic, è un metodo, è un apparecchio, insomma, è una roba semplicissima, voglio dire che viene, è stata elaborata da degli studiosi svizzeri e in questo momento ci sembra che sia quello che è più semplice, in qualche modo, non la dinamizzazione la puoi fare anche a casa, cioè, voglio dire, come dire, ti prendi una carafa d'acqua e la dinamizzi ritmicamente, magari dieci minuti e l'acqua, sicuramente dopo la dinamizzazione, l'acqua è diversa rispetto all'acqua prima della dinamizzazione, in questo caso viene passata tra questo, questo T-Sonic, c'è un movimento ondulatorio, ritmico, e la creazione anche di suoni, no, in qualche modo perché il suono ha anche a che fare con l'acqua, lo sappiamo che gli esperimenti fatti di fisica, come il suono, come dire, crea, il suono crea, 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 dia movimento, insomma, dia, abbia una relazione con l'acqua, come con l'aria, ovviamente, quindi usiamo questo T-Sonic e stiamo usando anche quest'acqua adesso in agricoltura, però non abbiamo ancora i risultati e quindi vogliamo vedere come l'effetto acqua, come l'effetto dinamizzazione dell'acqua possa avere, che effetto possa avere sulle piante, credo che ci sia molto interessante perché anche lì non è un tema solo di quanta acqua, ma che acqua, la qualità dell'acqua, quindi noi abbiamo scelto questo sistema qua, dinamizzare, quindi un'acqua morta, un'acqua che ha passato alle condutture, perché l'acqua dell'acquedotto è un'acqua che ha passato a condutture buie, sotterranee, insomma, magari per chilometri, 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 effettivamente poi viene portata alla luce in qualche modo, viene filtrata ulteriormente rispetto a quello che viene fatto normalmente e poi viene dinamizzata, in modo che io quando la bevo in qualche modo ho un'acqua viva e non un'acqua morta. Beh, complimenti, mi sembra, al di là che sei riuscito a spiegarlo in maniera chiarissima, veramente ottimo, mi sembra molto interessante questa propensione che voi di Eco or Natura Sia avete per la sperimentazione, è una cosa che mi piace tantissimo e vorrei chiederti a questo punto, invece dal punto di vista dell'agricoltura, in questo festival Ecofuturo uno degli argomenti centrali è l'utilizzo dell'agricoltura biologica, organica, come strumento per, diciamo, intrappolare di nuovo il carbonio e agire contro il disastro climatico. Mi puoi raccontare cosa state facendo in questo settore? Vi racconto un'esperienza e poi ti racconto cosa stiamo facendo che mi ha colpito molto, la raccolto sempre, quindi morì chi l'ha già... sono stato un anno fa o forse un anno e mezzo fa in Olanda. Sapete che l'Olanda è il paese, come dire, Netherlands, no? Paesi bassi, cioè piatta. In questo posto c'era un posto un po' ondulattino e di solito lì siamo al mare, cioè siamo terreni, da gran parte sono terreni sotto il livello del mare, quindi terreni molto sabbiosi, molto poveri, no? E tra l'altro gli olandesi sono dei, come dire, sono tra, insieme agli israeliani, sono quelli che sono nell'agricoltura più intensiva, no? Allo giorno ero in un negozio tedesco, ho visto pomodori non italiani o marocchini o olandesi, quindi loro sono fortissimi. Vabbè, al di là di questo, sono andato in un posto e ho visto un terreno molto sabbioso, sciolto, però bello, nero, no? E il contadino là mi ha detto, il contadino che fa biodinamica, dice, ma sai Fabio, qui ci sono 80 centimetri di humus, di humus, di terreno fertile. Sai come l'hanno fatto? I monaci hanno fatto un millimetro all'anno per 800 anni. 800 anni questi monaci hanno raccolto del sottobosco, raccolto del sottobosco e compostato e reso fertile questo suolo. Cosa vuol dire? Cos'è quel compostaggio lì? Quella è CO2 captata. Quindi noi abbiamo un problema oggi che è la CO2 nell'atmosfera. L'atmosfera nell'atmosfera è un problema, ovviamente, no? Siamo sopra tutti i livelli di soglia, però, come dire, la CO2 se io invece di averla nell'atmosfera l'ho nel terreno sotto forma di humus senza organica, io ho fertilità del suolo. Quindi nel suolo la CO2 è vita, nell'aria è morte. Quindi adesso stiamo cercando di fare il bilancio del carbonio in alcune aziende per capire in ogni azienda quanto carbonio riesco a captare, quanta CO2 riesco a mettere nel suolo. L'abbiamo fatto in un'azienda, la Divaira, che è un'azienda di 600 ettri nel Molise, diciamo che gestiamo noi. Ha un bilancio economico molto, 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 molto difficile, però ha un bilancio del carbonio straordinario, solo che quello non ce lo paga nessuno per ora, però insomma ce lo pagherà il Padre Eterno quando andremo a salutarlo. Allora, qual è la pratica lì? La pratica è, come dire, i sovesci. Cos'è il sovescio? Il sovescio vuol dire che fai delle culture che non raccogli ma che interri. Vuol dire che la cultura, la pianta, la pianta assorbe CO2, la fotosintesi assorbe CO2. Tu quella CO2 lì che diventa proteina, che diventa carboidrato, che diventa lipide, quel che l'è, quella la metti nel terreno. Il terreno poi i microorganismi, come dire, la riescono a fissarla e quindi pian piano diventa sostanza organica e poi, sì, sostanza umica, insomma humus, humus prima, humus instabile, poi humus stabile. Viene fatte le rotazioni, lunghissime rotazioni, 7, 8, anche 10 anni di rotazione. Vuol dire che nella rotazione ci metti sempre la foraggera. La foraggera vuol dire che tu porti via, come dire, il sopra, perché dai alle vacche, però lasci sotto la parte radicale, che poi, come dire, quando ari in qualche modo poi diventa humus. Viene usato naturalmente tutta la paglia, la paglia viene usata in stalla, quindi la paglia viene, come dire, si impregna delle urine, insomma, delle urine degli animali e quindi le urine sono ricche di azoto, la paglia invece è molto ricca di carbonio. da questo mix carbonio-azoto si forma la sostanza organica che poi insieme all'etame viene compostata e messa nel terreno. Insomma, tutte queste cose, quindi sovesci, lunghe rotazioni, uso della paglia, compostaggio, eccetera, alla fine, l'anno scorso 2018, il bilancio del carbonio ha dato 3,1 tonnellate ettaro di CO2 captata. Nel 2017 2,5 tonnellate. Abbiamo fatto un po' di conti che corrispondono a quelli che ha fatto l'IFOAM. Se, come dire, se tutti i terreni del mondo, qualcosa, come dire, ovviamente ipotetica, ma insomma dobbiamo pure avere una proiezione anche numerica, se tutti i terreni del mondo venissero coltivati così, con 3,1 tonnellate ettaro captati, in dieci anni la CO2 scenderebbe da 411 ppm che è adesso a 350 ppm nell'atmosfera, quindi andremo a livelli normali. Quindi quello che vuol dire in te, in realtà l'agricoltura è un grande, l'agricoltura oggi produce il 30% di gas R, uno per la CO2, uno per il protossido di azoto, perché l'azoto che usano in agricoltura, la consumazione, una parte rimane nel terreno, una parte va nell'acqua, una parte ce la mangiamo noi e una parte evapora nell'atmosfera. Quindi non usare azoto chimico, quindi tutto l'azoto è fissato, perché l'azoto è preziosissimo per l'agricoltura biologica e biodinamica, quindi l'azoto devi tenertelo là. E anche la CO2, cioè se effettivamente crei humus, crei humus, cavolo tu, prima l'azienda ha bisogno di creare humus, perché non usando la chimica o se non ha humus, muore di fame. E quindi crei humus, crei fertilità, capti CO2 e liberi, come dire, cioè trattieni la CO2, trasformi la CO2 in sostanza umica, sostanza organica e la CO2 dell'atmosfera, come vuol dire, diminuisce. Questo è il tema. Quindi in realtà mangiare bio non mangio solo per me. Io, come dire, tanto, cioè la vita dell'uomo è ben poca cosa, è grande cosa, ma insomma in termini così, come dire, è una durata limitata. La vita della terra, invece, è una cosa assolutamente, come dire, che ha un'importanza per l'umanità intera, come dire, enorme. Quindi mangiare biologico non è solo mangio per me, per stare bene, ma in realtà il bio, se mangio un bio vero, o se consumo, diciamo, più che mangio consumo, un bio vero, io ho anche un beneficio attraverso l'agricoltura, quello che fa l'agricoltura per il bene della terra. Questo è un po' il tema. E io credo che questo sia veramente, veramente importante. Humus, cosa vuol dire poi, tornando al discorso di prima, humus vuol dire acqua, cioè vuol dire acqua, perché vuol dire trattenimento dell'acqua, no? C'è uno dei problemi nostri, dei nostri terreni che non trattengono più acqua, quindi l'acqua, quando viene e se ne va, come dire, quando viene e se ne va, invece il problema, l'acqua c'è, per prima di trattenerla l'acqua. L'humus invece diventa la spugna, in qualche modo diventa un elemento assorbente, quindi quando c'è acqua, poca o tanta che sia, la trattengo e poi la rendo disponibile quando la pianta ne ha bisogno. Quindi avere humus nel terreno vuol dire avere fertilità, quindi sostanza organica, avere fertilità e consumare meno acqua. Insomma, si dice, ma penso, io non ho i calcoli precisi, quindi posso dire le cose, che fare un biologico vero consumi il 40% o meno di acqua. E siccome il 70% dell'acqua disponibile è usata dall'agricoltura e se l'acqua è un problema e sta diventando sempre più un problema, dobbiamo avere l'agricoltura che usa poca acqua, che usa pochissima acqua, perché l'acqua è un bene prezioso. Quindi bisogna usare poco acqua, vuol dire usare dei metodi, come dire, tipo l'arricazione a goccia, insomma, tipo metodi di precisione cosiddetti, per non sprecare acqua, ma vuol dire anche avere terreni che trattengono l'acqua, la trattengono e la rendono disponibile quando è disponibile, perché, come dire, che venga tanta acqua e se ne vada tutta non ho risolto il problema. Cioè io ho bisogno di un'acqua, come dire, che sia disponibile nel tempo per la mia coltivazione. Veramente molto interessante. Non è per piageria, ma vorrei dire che ogni volta che tu vieni qua a Ecofuturo a raccontare cosa state facendo, ci racconti di esperimenti, di nuove strade che state affrontando. Ed è molto interessante questo fatto, perché se noi non troviamo nuovi sistemi, ci limitiamo a stare nei parametri di legge dell'ecologico, del biologico, del non tossico, non andiamo da nessuna parte. Per salvare la terra abbiamo bisogno di nuove idee, nuove metodologie, nuovi sistemi che funzionano. Anche questo vostro lavoro va nella direzione del titolo del Festival Ecofuturo di quest'anno, che è La terra salvata dalla terra. Grazie e buon lavoro. Grazie.